allora si è appena concluso il pregara della 212 al mister olimpia questo è il force call out composto da sei atleti il primo atleta del force call out è christian zagarella veramente inaspettato mi sarei aspettato un buon risultato a quest'olimpia ma un force call out all'esordio in questa categoria è sbalorditivo ne parlerò poi meglio in seguito poi abbiamo anche kerit baio sean clarida kyon pierson e akmad ashkanani e anche è vero angel calderon allora parto col dire che secondo me kyon è il vincitore netto secondo me questa è la sua miglior forma di sempre è al suo 100% perché non ho mai visto kyon così tirato ancora meglio dello scorso anno gli ho visto dettagli che non gli avevo mai visto addosso specialmente nelle gambe nella parte posteriore quindi gluteo e femorali non ho mai visto questi dettagli finora nel fisico di kyon e davo tutte le pose vincenti a lui contro clarida clarida invece mi ha veramente molto deluso alla press conference ha detto di avere un peso di 175 libri quindi sotto gli 80 kg e ho capito perché shona questo peso in gara perché ha catabolizzato ha perso secondo me tanti muscoli ma veramente tanti muscoli appena è entrato per fare la posing routine singola si vedeva che era molto molto vuoto e flat in tutto il corpo sia sulla parte alta che parte bassa e in più sulla parte bassa ho notato che la sua gamba destra è più piccola della sinistra non so forse potrebbe aver avuto un piccolo infortunio o qualcos'altro perché se notate la gamba destra sia sul retto del femore anche sul vasso laterale è molto più piccola della gamba sinistra e in più aggiungendo il fatto che è flat anche nella parte alta non è una buona forma per shon mi aspettavo molto meglio penso sia la prima volta in vita mia che vedo un shon clarida flat e non super pieno esplosivo però almeno l'addome è sotto controllo l'addome è in controllo e non l'ha mai spanciato come dicevo io do tutte le pose vincenti a kyon sia quelle frontali quindi front double bicep e front last spread per shape struttura rotondità forme e completezza shon è molto più piccolino meno largo e ha meno rotondità e forme di kyon e in più quest'anno è anche più asimmetrico nelle gambe stessa cosa anche l'insight chest dove shon ha completamente perso il petto e le spalle già il suo petto non è mai stato chissà che è sempre avuto un petto carente però quest'anno è veramente scomparso e ha perso anche le spalle quindi anche side chest e side tricep le do completamente a kyon sia appunto per shape rotondità volumi e anche per definizione se devo essere onesto perché shon è flat ma non è neanche secondo me così tirato cioè l'ho visto molto più tirato in passato secondo me ha avuto un problema durante la prep e qualcosa è andato storto anche tutte le pose di schiena le do a kyon per una miglior schiena più larga più spessa e anche con dettagli e inserzioni migliori e anche secondo me per una miglior definizione nei glutei e femorali absente eyes allora l'addome di kyon era un po' troppo fuori controllo non solo nell'absente eyes però e anche nelle transizioni tra una pose e l'altra era un po' troppo rilassato e non era sempre sotto controllo però questo non dovrebbe essere un problema così grave alla fine secondo me ha vinto tutte le pose e anche la mosmoscola di laddò lui secondo me shon potrebbe rischiare anche il secondo posto potrebbe rischiare il secondo posto secondo me la sua fortuna è che carrot bio è off un pochettino anche lui mi aspettavo un carrot molto più tirato però è un pochettino off un pochettino liscio sia sul fronte anche di back più passava il tempo però e più continuò a migliorare per esempio anche lui quando ha fatto la routine finale era molto liscio però poi ha recuperato un po' nella fase finale del pregara ha recuperato un po' di condizione e secondo me shon deve stare attento a carried poi c'era anche angel calderon molto pieno di esplosivo forse non con il suo miglior tiraggio di sempre nel back sul fronte è molto buono però nel back un po' indietro e poi la rivelazione secondo me del force call out christian zagarella che ha centrato il force call out e secondo me ha centrato anche la top 6 inizialmente nel force call out c'era anche ash canani poi l'hanno messo nel secondo call out anche e poi hanno fatto un call out con christian e gli altri i primi atleti del secondo call out tutti tra le ash canani e christian è sempre rimasto in mezzo a questo call out quindi a mio avviso christian arriverà o quinto o sesto però è più probabile un quinto posto non ho messo accanto ad un atleta brasiliano penso si chiami vito qualcosa ora mi sfugge il nome e lo vedevo molto superiore rispetto a vito christian mi ha veramente sbadordito una forma nettamente migliorata rispetto alla settimana scorsa in bulgaria è arrivato molto ma molto più tirato e non me lo sarei mai aspettato perché ha fatto una gara settimana scorsa e ha fatto anche un volo intercontinentale nel mentre per arrivare in america e migliorare in pochissimo tempo così tanto con un volo di tante ore alle spalle non è cosa da tutti quindi veramente complimenti a christian e secondo me arriverà quinto al suo primo misto olimpia nella 212 a meno che un meteorite non si schianti sul palco del misto olimpia e su kyon non vedo come kyon non possa vincere questa gara è il migliore atleta su quel palco quello più completo con la shape migliore la struttura, le forme, rotondità e simmetrie e condizione quindi è impossibile che vada a perdere kyon tra l'altro il palco veramente mi è piaciuto un sacco sfondo nero, scuro un po' di lucette rosse ma non distraggono troppo l'occhio e qualità della streaming molto buona e secondo me questa è un'ottima streaming con un ottimo palco perché si vedono veramente molti molti dettagli negli atleti quindi io do kyon come vincitore per il secondo, terzo e quarto posto secondo me è ancora molto aperto non do chiarida secondo posto perché a meno che non faccia qualcosa, qualche miracolo alle finali e non arrivi più pieno secondo me il suo secondo posto è a rischio perché era veramente molto molto flat e le gambe... c'è qualcosa che non va nelle gambe la gamba destra era troppo piccola rispetto alla sinistra e non ho mai visto questo suo problema gli anni scorsi oppure c'è sempre stato ma non l'ho visto ma nessuno ne ha mai parlato invece poi al quinto posto metto Cristian Zagarella al sesto Vito e settimo, ottavo e nono, decimo sono ancora un po' aperti secondo me comunque fatemi sapere la vostra fatemi sapere cosa ne pensate di questo pre-gara del Mr. Olimpia 212 se anche secondo voi Kyon Pearson andrà a vincere abbastanza facile questa gara o se sarà qualcun altro fatemelo sapere vi chiedo like e un commento come al solito e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti